ola gringo oggi video unboxing e recensione di questo pacco che arriva da kingskate vi faccio subito vedere cosa c'è all'interno qui c'è subito il foglietto descrittivo del prodotto e curiosi eccolo qui bellissimo è un mini cake per principianti soprattutto guardate che bello rosa allora è lungo 56 centimetri largo 15 centimetri ed alto 10 centimetri alle ruote vedete con i led colorati al buio magari si vedono meglio che si accendono quando si è in movimento è facile da trasportare e si inserisce bene anche in uno zaino o bagaglio a mano è realizzato in plastica robusta e durevole è dotato di track in alluminio spesso per la massima velocità e controllo tavola antiscivolo non so se si vede vedete disegno per maggiore stabilità le ruote oltre che a led sono in poliuretano cuscinetti ad alta velocità e assorbimento perfetti per assorbire i dossi e le crepe sul macciapiede è fornito anche di questo attrezzo che serve per stringere o riparare il tuo skateboard e te questo qui c'è anche cacciavite si inserisce così se non vado errata perfetto e anche che questo si può tranquillamente metterlo lo zaino in borsa insomma sempre a portata di mano è progettato per bambini adolescenti o adulti che vogliono divertirsi o sportarsi in città con una corsa fluida adatto soprattutto per i piccini che vogliono imparare infatti ora lo faccio provare a sofia vi faccio vedere il video mentre lo prova e poi ci rivediamo dopo per la e poi ci rivediamoci a tutti i piccoli e poi ci rivediamoci a tutti i piccoli piace la farà di imparare ad andarci sì dai l'ho trovato un prodotto stabile e facile da manovrare per lei quindi adatto alla sua età e per chi vuole appunto imparare ad andarci la lunghezza è perfetta niente semplicemente lo consiglio soprattutto ora che sa per arrivare il natale è un regalo ideale per i ragazzi per i bambini se volete farlo quanto adulto ben venga lo trovate sul sito www.kingskate.it ci sono altre tipologie di skate altri colori fatemi sapere nei commenti se l'avete già acquistato già provato come vi siete trovati lasciate un pollicione se vi è piaciuto questo video mi raccomando iscrivetevi al canale per altre tipologie di video come questo ma non solo attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'ultimo video caricati vi saluto un bacione